Roberto Gemmarino, l'ultimo colpo del Pineto, che colpo Ivan Speranza ha soddisfatto, insomma un acquisto assolutamente di altro livello? Sì, è un giocatore che da una ventina di giorni aveva manifestato l'intenzione di che se andava via Pineto era una piazza che a lui poteva andare bene. È stata un'operazione di mercato accettabile perché siamo usciti soddisfatti, il ragazzo mi ha fatto una buona impressione, sappiamo che non giocava da sei mesi perché comunque il campionato aveva finito con un infortunio, però la caviglia pare che sia tutto a posto, il ragazzo già si allena da mesi senza avere problemi, quindi spero che sia di buon auspicio perché so che è un grande uomo, è un grande giocatore, è un giocatore indiscutibile, ma è pure un ragazzo spogliatoio, uno che ha fatto otto anni capitano a Teramo, quindi ha un'esperienza da grande calciatore, quindi noi lo accogliamo a braccia aperte con la speranza che possa ripetere quello che ha fatto a Teramo negli ultimi anni. E innalza ancora di più, se vogliamo anche sia la concorrenza che il tasso tecnico della retroguardia del Pineto? Pineto ha una squadra forte, forte in difesa con giocatori esperti, adesso sicuramente è compattata con tutti gli effettivi che rientrano gli squalificati, diciamo che abbiamo messo a disposizione del tecnico un organico importantissimo. Abbiamo questa opportunità di questo ragazzo sicuramente positivo sotto ogni punto di vista, e c'è stata questa opportunità che venisse con noi e l'abbiamo accettato. Quando c'è stata veramente la possibilità che Speranza venisse a Pineto? È stato un colloquio di ieri, ieri pomeriggio, con Andrea Iaconi, direttore del Teramo, nonché amico, una storia con noi, quindi tutte le garanzie sono state ottemperate e quindi il giocatore oggi sta con noi. Innalza ancora di più un livello di squadra che già in estate era molto alto. Ma sì, questo noi lo vogliamo, vogliamo ben figurare sicuramente. Siamo partiti un po' male, però ci auguriamo che questa sia una fase che non si verifichi più. Ecco tutto qui.